Do you mean, oh oh oh, when you touch your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Io sono con la grazia Ferranti delle cose di grazia che realizza accessori, bomboniere, impannolenci e lavori di cuscito creativo. Ciao, grazia. Ciao. Allora, ci avviciniamo al Natale. Negli ultimi anni è un po' cresciuto l'interesse anche per l'handmade, per il regalo fatto a mano che è più particolare di quello magari acquistato in un negozio. Sicuramente, è un regalo a parte particolare, personalizzato, anche pensato. Quindi... Che si può strutturare su misura magari per la persona che deve riceverlo. Esattamente, esattamente. Come è nata la tua passione per il cuscito creativo e come è diventata poi un'attività? Ma sin da piccolina io ho avuto sempre un po' l'interesse alla manualità, a creare, a fare qualcosa di mio. E diciamo che nel corso del tempo è andato sempre più crescendo, la passione aumentava di più e adesso eccomi qua. Dove la trovi l'ispirazione magari per i tuoi lavori, per le idee? La trovo da tutti i giorni, dai miei figli, da tutto ciò che vedo, cioè tutto mi ispira. Magari poi ti fanno anche delle richieste particolari, i tuoi clienti? Sì, solitamente sì, anche perché tutto è nato dalla caricatura che io ho fatto di personaggi, quindi ho cercato di rappresentare i personaggi in modi pupazzetto e quindi da lì è nato un po'. Un po' tutto, un po' per gioco comunque avevi l'intenzione? Un po' per gioco, è stato anche un modo di divertirmi, ho approfittato il compleanno di una mia amica, l'ho realizzato la sua caricatura e da lì... Ecco, noi ora intanto vediamo le immagini degli oggetti che realizzi. Queste sono delle bomboniere che ho recentemente realizzato per la nascita di un bimbo. Quindi anche proprio appunto bomboniere, borsette, accessori personali, set asilo, un po' di tutto. Io ho visto fra l'altro tu hai una pagina Facebook, un account Instagram dove tutti possono collegarsi e vedere i tuoi lavori. Io ho anche il mio negozio su Miss Hobby che è un sito appunto di artigiane creative dove appunto ho tutti i miei prodotti, listino prezzi, un po' tutto. Ti possono cercare come? Le cose di grazia? Le cose di grazia, tutto unito. Sia su Facebook che su Instagram che su Miss Hobby? Sì, sì, su Instagram che su Miss Hobby. Tu lavori, mi dicevi, più che altro però su commissione. Sì, più che altro su ordinazione anche perché facendo la mamma di tre figli è un po' complicato realizzare tante cose e tenerle per me. Certo anche poi quando si tratta di bomboniere. Esatto. Quindi con debito anticipo devo pensare. Abbastanza. Anche perché immagino ci sarà anche un bel lavoro dietro. Tante volte non si capisce quanto tempo c'è dietro al cucito. Sì, oddio, chi acquista il prodotto fatto a mano sicuramente conosce e capisce le tecniche e perlomeno io oltre le tecniche sono molto accurata nel mio lavoro. Metto veramente passione quindi chi ha acquistato da me è ritornato per cui. Sì, anche perché sono oggettini molto piccoli quindi sarà un lavoro di precisione immagino. No, di pazienza. Di pazienza. Io ho visto anche che tu realizzi delle piccole doll personalizzate proprio con le fattezze della persona. Sì, sì. Quello è il mio cavallo di battaglia diciamo. Infatti ho realizzato. Adesso realizzo anche, perlomeno vanno tantissimo, i quadretti famiglia o fuori porta come si vogliono definire dove rappresento tutta la famiglia. Dei ritratti un po' particolari. Sì, sì. E infatti a Natale ci saranno parecchie famiglie che riceveranno questi regali carini. E personalizzati soprattutto. Sì, originali. Bene, io la ringrazio. Potete seguirla sulla sua pagina Facebook, quindi le cose di grazia, potete sfogliare il catalogo. Per Natale magari ora siete un po' in ritardo. Un po' in ritardo. Ma sarete sempre benvenuti. Quindi ti possono contattare tramite messaggio, su Facebook, su Instagram e prendere accordi per un regalo un po' più particolare. Grazie. Grazie a te. Ti aspettiamo quando vuoi. Grazie a te.